Eccoci ancora qui sul canale YARForex, io sono Arduino Schenato e come sempre, ormai da un po' di settimane, oggi farò un tutorial pratico dedicato alla price action, al metodo YARForex, direttamente su un cambio molto molto interessante, un cambio valutario che è dollaro yen, cambio che ho da tantissimi anni nella mia lista operativa e che credo possa essere interessante anche per voi andare a vedere insieme come operarci e che cosa fare. Ovviamente sempre in linea con il mio metodo che lavora in ugual modo sia sul dollaro yen, sia sull'euro dollaro, la sterlina, i DAX, l'S&P, non cambia perché è un'analisi ragionata, quindi discrezionale, di alcuni elementi del mio metodo che sono poi parte della struttura della price action che io osservo per poi arrivare proprio a operare. Bene, possiamo partire, quindi andiamo su replay, come sempre io faccio un po' avanti e indietro, mi giro da quell'altra parte e faccio così, vediamo un po' dove sono andato. Ok, stiamo a esattamente a maggio 2008, maggio 2008, questo è un grafico weekly, quindi adesso dovrò ovviamente andare a segnare quelle che sono le aree importanti di prezzo, vado a prendere sicuramente questa zona qui, che è un'area iniziale molto importante, guardate un po', un'area super importante direi. Ok, poi andrei a segnare questo, quest'area qua, bene, andrei a segnare questa zona qui, in alto e in basso, beh, segnerei sicuramente le chiusure attuali, qui. Vediamo se nel passato qui c'era qualcosa, beh, c'era qualcosa un po' più sotto, però direi al momento di rimanere così, va bene così, ok? Allora, che cosa c'è? Questi sono i livelli principali sul weekly, quello che noto è una tendenza ribassista, in atto, molto chiara, il pullback è partito da una pinbar, quello sicuramente, quindi di base dobbiamo stare un attimo attenti, perché non è un pullback come questo, come questo al momento, ma è un pullback creato da una pinbar, però al momento già sviluppatasi e ha creato già un movimento rialzista, e nelle ultime due, tre settimane, come si può notare, c'è un FTV Power, questa è un FTV Power ribassista, se guardiamo il minimo, 102,61,3, 102,57,4, quindi convalidata al ribasso, e nell'ottica di trading, personalmente, un movimento di questo tipo mi porterebbe a avere un piano per la prossima settimana da osservare delle conferme sul daily, esclusivamente short, quindi non andrò a optare per dei long. Andiamo a vedere, ecco qua, questo è il venerdì chiusura di settimana, e vediamo un po' che succede. Bene, InsideBari lunedì, non ci sono cose da fare, cosa potrebbe essere interessante? Potrebbe essere interessante, per esempio, una falsa rottura qui, un ritorno, potrebbe, porterebbe il mio short ad essere un po' più convalidato, confermato. Vediamo il martedì. Martedì si scende, nessuna price action, mercoledì pure. Giovedì si riprende con un doppio minimo higher che si appoggia qui a 103, 102,95, 97, però questo è un trigger long, quindi io non vado a operarci su, perché ho il piano operativo only short, e in questo caso, come si può notare, vedete che il mercato crea un inside black, quindi ribassista. Vediamo un po' il weekly, come si conclude, il weekly praticamente crea una inside bar, narrow range rispetto al range precedente, quindi a range ristretto, col corpo all'interno addirittura del corpo precedente, quindi cosa significa? Significa compressione di volatilità a livello informativo, la price action ci informa di quelle che sono le dinamiche, e quindi in questo caso non ci sono cose da fare, l'unica cosa da fare è quella di rimanere, per quanto mi riguarda, only short come piano operativo, non andrò a optare per dei long nei prossimi 5 giorni della settimana, e cercherò solamente degli spunti short. Vediamo se arriveranno, ovviamente. Lunedì, inside bar. Martedì si sale. Mercoledì fa una tail bar, che però non dà nessun tipo di informazione chiara. Giovedì rompe e va a testare i massimi, addirittura cercando di violare i massimi al rialzo, senza darci nessun trigger operativo. Vediamo venerdì. Venerdì, inside narrow range, anche qui, alla fine di questa gamba, venerdì molto calmo. Vediamo come chiude la settimana a livello weekly. Il weekly sembra ridare forza al mercato, al dollaro yen. Sembra come che adesso ci sia la voglia di spingere più verso l'alto, dopo l'uscita, diciamo, della bassa volatilità, però sempre in una, come dire, una tendenza short molto chiara. Quindi, come si può notare, abbiamo, no, dei, una fase di questo tipo, una fase di trend ribassista. Quindi, devo dire che in questo caso specifico, qui potremmo ancora vedere, per esempio, degli short. Questo potrebbe essere una situazione chiaramente fattibile. Detto questo, però, la compressione del box, con la fuoriuscita dalla inside bar, potrebbe anche darci l'opportunità di andare fino a 111. Cosa fare a livello di piano operativo? Ma io rimarrei long short in questo caso, quindi sarei aperto sia posizionamenti long che short, in base a quelle che saranno le conferme sul daily. Quindi andiamo sul daily, vediamo un po'. Lunedì si scende, quindi la narrow range crea il movimento. Questa è una FTV combo, che però arriva, vedete, con i massimi proprio agganciati ai massimi di questo range. Quindi sarebbe pericoloso comprare il breakout, perché qui potremmo vedere questo. E questo, secondo me, sarebbe, nell'ottica della struttura weekly trend, sarebbe un bellissimo trigger short per andare a prendersi magari questi livelli. Quindi è rischioso, non vado a comprare qui sui massimi. Tendenzialmente non compro mai delle aree di resistenza. Solitamente. Mercoledì fa una inside a spillo, quindi facile la possibilità che il mercato faccia da movimento rialzista. Anche qui vorrei aspettare di vedere come rompe, se rompe sopra. Rompe, tiene il giovedì, vediamo il venerdì se non lo recupera. Guardate un po'. Il venerdì lo recupera e crea una falsa rottura di questo livello. Molto interessante come price action per la prossima settimana, ma visto che adesso ci sarebbe sabato e domenica, vado a vedere, vado a fare il mio piano settimanale e capire un po' che succede. Allora, quello che si è venuto a creare, vedete, in questa area di resistenza, è una indecision bar che dopo aver rotto al rialzo rientra sul livello e quindi potrebbe, soprattutto alla rottura di questo minimo, portare un movimento verso il basso. Però questa è anche un indecision che se rotta al rialzo, vista la dinamica precedente di fuori uscita da questa inside, può portare verso i 108.11, almeno come primo livello. Quindi anche qui, personalmente, rimango long short in ottica operativa. Devo adesso avere una conferma che questa falsa rottura possa essere interessante. Al momento non entro short e aspetto di capire. E questo mi fa capire tutto. Infatti il mio long short settimanale adesso mi fa entrare sicuramente long con un obiettivo abbastanza ristretto, direi, perché secondo me l'obiettivo deve essere, il primo obiettivo è l'obiettivo di portare a casa, che è il 108.11, quindi come costruire questa operazione. Ma io costruire un'operazione con un paracadute non troppo gigante in questo caso, perché essendoci, vedete quest'area, se mi ritorna giù per me non va bene. Quindi l'idea è di impostare uno stop non troppo stretto. Allora, andiamo a prendere l'arduinacci, facciamo così. Ecco. Metterei uno stop a 103.40. 103.40 lo stop paracadute. Quindi comprando a 106.20, 103.40 abbiamo detto, 4.40, 5.40, sono 270 pips, 280, 290 pips. Quindi 5 per 3.15, 3 per 4.12, io metterei 30k, quindi 3 minilotti. Compro, metto in lo stop a 103.40, ah, è ancora meno addirittura. Va bene. 103.40, eccolo qua. Pensavo di aver comprato qualcosa in più, però va bene. Questi sono praticamente circa, fate conto, intorno ai 900 dollari. Quindi questi 86.670 euro. i yen sono più o meno tra gli 800 e 900 dollari. Va bene. Terremo più o meno questa come come cosa. I pips erano, abbiamo detto, 280, 290. Ah, ho fatto un conto sbagliato. 103. 4.40, 5.40, no. Giusto, giusto. Circa 300 pips. senso. Va bene. Andiamo a vedere cosa succede. Questo è lunedì, martedì. Bene. Martedì viola rialzo e vola verso l'alto. Ovviamente, guardate, adesso io sto rimpicciolendo qui e sto vedendo un po' che succede vedete 34.200 ien sono circa 340 dollari più o meno. Quindi questo abbiamo un altro livello. Io andrei a segnarmi magari anche l'altro. Se esplode sopra lo otterrei anche fin qua se no me la porto a casa. Adesso vediamo un po'. Non inserisco il target ma me la gestisco con l'idea di uscire su questa zona. Vediamo. Bene. Ritracciamento il mercoledì. Giovedì va a toccare il mio possibile target. A questo punto vediamo come si comporta il venerdì lì e poi decidiamo. Chiude bene la settimana quindi il weekly guardate un po' com'è molto interessante perché adesso il weekly sembra poterci dare un movimento anche più ampio visto il grande il grande barrone che si è venuto a creare a questo punto andiamo sempre sul daily in questo caso only long la posizione ma non tanto per il mio piano ma non tanto per la mia posizione long perché proprio la dinamica era una dinamica di rottura quindi mi andrei io andrei a cercare il target addirittura in area 110 in questo caso che può diventare davvero la zona target. Vediamo anche mettendo due estensioni di Fibonacci guardate arriviamo al 111 scusate al 261.8 a 109.50 a 110 c'è il mio livello direi che proviamo ad andare verso là proviamo ad andare verso i 110 allora lunedì attenzione 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 questo è un livello dove ci potrebbe essere un ritorno però aspetto il martedì il martedì ritraccia il mercoledì fa questo mi dà l'idea che ci possa essere un ulteriore movimento così per poi spingere verso qua questo mi dà questo tipo di abbassamento di vola non mi dà un abbassamento di vola di grande ribasso vediamo se ha senso stare giovedì vediamo venerdì se esplode sopra no viene giù ancora un po' venerdì 20 vediamo il weekly ritracciamento scommetto eccolo qua ritracciamento classico bisogna stare un po' attenti perché era un livello di vendita rimango però ancora only long vista la dinamica di prezzo lunedì lunedì fa una FTV classic questa è una classic ecco adesso dovrò capire se si scende sotto qua ovviamente il da farsi perché se scende sotto qua probabilmente può essere che esca andiamo a vedere martedì fa fatica il livello è importante vediamo se fuoriesce dal livello non voglio spostarmi qui perché poi sapete no che se poi chiude un po' sotto mi chiude male allora preferisco chiudere manualmente mercoledì ecco per me sarà importante vi dico andare a a vedere che tenga questo livello che deve tenere qua mercoledì giovedì sapete che faccio esco chiudo la posizione porto a casa questi 150 dollari e al massimo rientro su un ulteriore swing ok incasso questi e al massimo entro su un ulteriore swing perché ha tenuto la zona poteva essere una zona di uscita in effetti però ho provato a vedere se faceva boom no sull'altra zona va bene lo stesso giovedì vediamo venerdì venerdì inizia a scendere e chiude la settimana probabilmente non benissimo o comunque in una fase di ritorno un po' short è vero che c'è ancora questa grande barra di volatilità però la dinamica nell'ottica di avere questa dinamica così short ha tenuto lo swing precedente high quello del ribasso quindi rimane ancora un mercato che nel medio termine è ribassista anche se nel breve è più rialzista questo mi fa essere long short nella mia pianificazione settimanale vediamo un po' se mi fa un long da qui molto probabilmente bello molto probabilmente lo comprano eh sì questo è molto bello perché mi fa una pin bar sul livello 105 e 52 in questo caso abbiamo se mi metto qui 4 e 40 un po' di più di prima mi terrei guardate invece di 30 25k quindi 0,25 io qui compro assolutamente compro e metto lo stop qua di 990 99.550 yen circa 990 dollari dai più o meno è quello va bene lunedì vediamo martedì martedì mi tiene mercoledì sembra scendere ancora giovedì recupera quindi tiene il livello chiave dove si è formata la pinna venerdì tiene con una bassa vola vediamo il weekly molto bello perché crea una ulteriore conferma diciamo di questa dinamica di volatilità al di sopra del livello precedente quindi sono già long vediamo se adesso ci fa lo spunto non solo verso i 108 e 20 ma verso i 110 che è l'obiettivo che avevo prima però però in modo come dire programmato ho deciso poi di uscire con discreto profitto comunque dalla posizione precedente vediamo lunedì rimango long ovviamente lunedì si sale si va verso il livello 108 e 10 bello martedì fa questa ulteriore pinbar ecco bene perché il fatto della tenuta di questo livello adesso è importantissima cioè non mi deve andare a chiudere sotto qua la chiusura sotto qua mi porterebbe a valutare una chiusura prematura del mio trade qua stiamo a martedì vediamo mercoledì mercoledì si scende un po' giovedì si rimane lì vediamo la fine della settimana venerdì ritorna ancora un po' a BA diciamo però fa uno spike quindi andiamo a vedere il weekly ma sul weekly sinceramente non vedo adesso cose cioè sì c'è questa indecision però rimaniamo ancora sopra io vabbè c'ho la posizionamento long da un punto di vista operativo però la mia pianificazione è long e short insieme perché questa potrebbe essere una falsa rottura dei massimi che potrebbe portare giù quindi nella mia pianificazione long short però devo gestire in questo momento il mio trade long quindi andrò prima di tutto a gestire quello vediamo lunedì si riscende martedì chiude sotto ecco che adesso devo cercare di gestire la situazione essendo stato qui il livello no di minimi e questo il livello che mi interessava adesso o recupera o esco cioè o recupera mi fa vedere qualcosa quindi questo è martedì vediamo un po' mercoledì recupera questo recupero cosa mi fa fare pam mi fa spostare il mio stop a 670 dollari più o meno sotto questo minimo perché questo minimo potrebbe portare poi i prezzi a recuperare quindi sto dentro con uno stop migliore gestisco in questo modo vediamo si ritorna in profitto giovedì spara su vedete che non ha senso uscire subito quando il mercato fa un movimento contrario ma lo stop paracadute ci permette questo stop che abbiamo un po' coniato negli anni in year forex ci permette di gestire meglio non obbligatoriamente uscire su un punto di massimo di minimo che è dove tutti poi escono no no quindi si recupera bella la price action perché questo potrebbe essere uno spunto long in questo caso giovedì ovviamente aspettiamo la fine della settimana bene venerdì chiude molto bene probabilmente a pin bar perché guardate se io penso al weekly chiuderà a pin bar perché lunedì martedì mercoledì e poi su probabilmente il weekly ci mostra una pin una pin bellissima tra l'altro che conferma la dinamica long che che ci sta un po' da un po' ci sta ci sta facendo operare long e adesso qui vediamo un po' qua adesso abbiamo guardate il 130-90 su questo livello il 161 auto poco sopra però non confluisce con niente io sinceramente non andrei a lavorare su quello vediamo un po' secondo me il livello è proprio questo quindi la zona di 110-80 addirittura tra i 110-110-80 andiamo sul daily ovviamente only long in questo caso perché non si può fare altrimenti long andiamo a vedere siamo long e vediamo prima giornata leggermente negativa bello aspettate che cancello un po' di cose questo permetterebbe addirittura questo doppio minimo air close permetterebbe un incremento permetterebbe un incremento che ci permetterebbe di fare un ottimo trade incrementato con obiettivo 110-5 io andrei a fare obiettivo qui o anche leggermente sopra in realtà però potrebbe essere buono perché se incremento qua allora io ho uno stop di 900 vuol dire che se io adesso faccio questo qua scusate così sono altri 350 allora facciamo così mettiamo altri 12.500 la metà di quello che ho compro ancora alzo ovviamente il mio come dire il mio rischio alzo il mio prezzo di carico leggermente alzo il mio rischio in questo caso sono circa 1140 dollari totali quindi aumento leggermente le esposizioni rispetto ai 950 990 iniziali alzo leggermente però ho invece di 25.000 dollari di come dire di 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 size ho 37.500 quindi sarebbe 25.000 lotto minilotti conto 37,5 minilotti nell'ottica 0.37 e mezzo o 0.25 se parliamo di metatrader o di lotti in quel senso ok quindi ho aumentato l'esposizione e vediamo se andiamo verso questo livello bene si sale ancora mercoledì siamo vicini a questo livello bisogna stare molto attenti al momento si scende questo è giovedì vediamo il venerdì fine settimana che succede bello mi va a ritestare il mio break even e crea un'ulteriore pin barra che può portare a il rialzo che stiamo pianificando da un po' il close di settimana è molto interessante sembra voler fare la sparata tra poche candele quindi nel giro di un paio di settimane secondo me ci potrebbe andare quindi rimango only long non faccio altri incrementi anche se qui si potrebbe ma siamo molto attaccati alla resistenza quindi molto delicata vediamo lunedì che succede lunedì va a ritestare il massimo non riesce a produrre un movimento però non fa una price action di nessun tipo bene mi aspettavo che ci fosse questo onda rialzo ribasso rialzo e adesso sinceramente dopo questo martedì questa qui è una classic ftv classic sui livelli di massimo mi dà l'idea che la rottura del massimo possa portare grande volatilità al rialzo vediamo non ancora però rompe 30 luglio mercoledì 2008 vediamo giovedì non ancora giovedì rimane lì sto a seguire gestire la posizione ancora non ce la fa rimane ancora un po' inguaiato qui venerdì 1 agosto vediamo come chiude la settimana indecision attenzione queste candele possono portare anche giù quindi bisognerà gestire bene in questo momento sto guadagnando circa 430 dollari da questa posizione vediamo se tra lunedì e martedì mercoledì nei primi giorni della settimana mi fa lo swing e spara bene FTW Power che va a far recuperare tutta l'andamento anche qui ci sono svariate conferme nei prezzi che il mercato può andare verso l'alto quindi devo dire che è molto interessante questa fase che stiamo vivendo vediamo questo è un lunedì vediamo martedì se rompe martedì bella come dire barra spillo che crea quell'ambiente di possibile molla rialzista vediamo mercoledì eccolo là mercoledì fa ciò che mi aspettavo movimento bello interessante 120.000 yen pari circa 1200 dollari adesso ovviamente non prendete perfettamente però più o meno è quello beh questo è mercoledì a questo punto vediamo se ci va a prendere questo livello e usciamo non ancora ritraccia un pelo giovedì vediamo il venerdì eccolo qua venerdì va a testare il mio livello venerdì 8 agosto siamo a fine settimana 135.000 yen pari a circa 1350 dollari chiudo la mia posizione e incasso eccolo qua quindi al momento queste due operazioni su dollaro yen nel tra il 2000 nel 2008 ci hanno fruttato 150.000 yen ovvero circa 1400 dollari 1500 dollari più o meno è un po' questa la situazione beh guardiamo un altro paio di settimane due tre settimane poi nel caso chiudiamo anche questa questo video tutorial venerdì quindi vediamo la close di settimana super interessante ha creato in effetti il movimento che ci aveva già confermato tutta la dinamica che abbiamo letto bene ovviamente questo lo studio della price action come lo facciamo noi di Airforex permette di guardare esclusivamente il prezzo oggi sento che ci sono moltissimi youtuber trader non lo so se sono trader più trader o più youtuber ma che parlano che se non c'hai i volumi o non hai questo indicatore o non hai quest'altro o non guardi le notizie o quell'altro ancora non si riesce a fare trading loro probabilmente non riusciranno a fare trading diciamo che si può fare trading anche senza io lo faccio da tantissimi anni Airforex è nata nel 2009 con un blog nel 2010 il sito Airforex io sono nato anch'io da molto tempo come trader quindi voglio dire ormai qualcosina abbiamo visto quindi se si fa price action con il modello Airforex si può fare trading esclusivamente con le dinamiche di prezzo non è che è impossibile non è perché tu non sei in grado di farlo allora tutto il mondo non è in grado di farlo ci sono varie metodologie e ognuno utilizza quella che sente più sua anche a livello personale voglio dire perché il trading poi è molto soggettivo quindi il trading con la price action si fa si può fare ovviamente se vi fermate esclusivamente a dei pattern grafici e basta ovviamente è molto difficile che nel tempo potete guadagnare ma se andate a studiare un po' quello che cerchiamo di offrire come messaggio da tanti anni a livello formativo quindi tutto lo studio della struttura del multi time frame quello che sto facendo vedere anche qui molto in breve molto anche in modo un po' giocoso però molto pratico vero e serio e anche molto didattico in questi tutorial si può fare assolutamente è ovvio che però qualsiasi strategia a livello tecnico voi andate a fare anche quella più come dire più osannata non c'è una strategia migliore in realtà però quella un po' più portata sul piatto d'argento in realtà se non c'è poi un lavoro su se stessi un lavoro introspettivo per migliorarsi nella gestione delle situazioni non guadagnerete mai nulla ve lo dico nel trading poi c'è molto lavoro di di sé molto lavoro introspettivo della gestione di se stessi gestione delle proprie azioni no? perché altrimenti ripeto voi potete fare qualsiasi strategia e poi continuate a switchare da una strategia all'altra e non ne ricavate un ragno dal buco quindi assolutamente va sempre tutto ben contestualizzato anche tutti i metodi ok? ma se non c'è un lavoro ragazzi non si fa nulla detto questo andiamo a vedere poi quindi dopo questa fine settimana la mia view rimane long non faccio ovviamente nel piano non metto il mio possibile short ma è only long perché il mercato adesso è partito quindi tutte le possibilità long ovviamente di qualità possono essere utilizzate è ovvio che qui adesso stiamo su un'area chiave io mi aspetterei qui un lieve ritracciamento sinceramente vediamo un po' lunedì non fa nulla martedì ritracciamento bello anche questo faccio l'ultima faccio l'ultima perché questo è in linea con tutto quello che abbiamo detto quindi a mio avviso mettendo una posizione piccolina sempre 12.5 vado a impostare uno stop 520 dollari eccolo qua sono 52.000 yen sono circa 520 dollari 500 dollari con una posizione piccolina che però potrebbe dare nuovi movimenti al rialzo se io vado a guardare un po' cosa c'è noto 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 un livellone qui se vogliamo no 113 vediamo se magari c'ha voglia di salire bene giovedì si sale un po' venerdì si sale e si chiude la settimana sopra i livelli molto interessante il weekly è così impostato quindi con una barra spillo chiusura sopra il livello io ragazzi qui direi che al netto di alcuni ritracciamenti si può rimanere tranquillamente dentro il mercato e provare un movimento ulteriormente long andiamo a vedere lunedì ritracciamentino inside martedì pure mercoledì inside giovedì si scende e fallisce un po' questo vediamo se mi recupera o si deve scendere fate conto che con la mia gestione del rischio ho 130 dollari di perte in questo momento quindi molto piccola recupera eccola qua la trap bar classica trap bar questa roba qua è una trap bar quindi una barra trappola boom boom classico falsa rottura cose che insomma utilizziamo nel nostro trading non faccio non faccio nuovi incrementi ma abbasso il mio rischio a 250 dollari eccoli qua 25.100 yen vediamo se sale sta lì questo cos'è lunedì ah non avevo guardato il fine di settimana ma vedendo questo mi dà l'idea che ci fosse ancora una struttura long quindi rimango long martedì sta lì mercoledì inside fake out piccolina giovedì non fa nulla venerdì si scende un po' vediamo come chiude la settimana si chiude in leggero pullback però insomma io su una situazione del genere così strutturata direi che l'idea è quella di rimanere assolutamente long quindi vado sul daily vediamo se riesco a prendere il daily perché ho il mouse che sta un po' ok lunedì lunedì vediamo ha sfiorato il punto di stop con un ritorno sopra i 108 e 10 vediamo se da qua mi recupera cioè mi fa questo o se va a prendersi il mio stop a questo punto però siccome sapete no qua con il con questo replay di trading view se fa così e mi chiude qua sotto lui mi chiude qua e non chiude qua quindi è un po' bruttina sta cosa a questo punto allora io guardate faccio così tolgo l'ordine stop sapendo che se mi scende qua chiuderò no mi tiene quindi martedì mi tiene tengo la posizione mercoledì sta lì chiudo la mia posizione con un piccola perdita di 300 dollari circa perché sono adesso 1200 euro di profitto 1200 dollari di profitto 120.000 yen e resto fermo vediamo la fine di settimana come chiude fa una pin bar bellissima sul daily vediamo il weekly come chiude è interessante perché potrebbe essere vedete l'andamento per andare verso l'alto quindi stiamo a vedere andiamo sul daily sto only long ancora però questa posizione aspetto a comprarla questa pin perché arriva molto violenta verso il basso mi piace però insomma preferisco capire andiamo lunedì vediamo se mi fa comprare sul ritracciamento o no martedì vediamo un po' mercoledì se si risale sopra qui ragazzi compro sulla via di sulla scia di questa pin giovedì giovedì venerdì rimaniamo un po' incastrati lì questo è il weekly un inside però siamo ancora in una fase long questa potrebbe essere un inside per un ritracciamento verso l'alto io personalmente su una dinamica di questo tipo di swing high swing low tengo la mia view only long personalmente vediamo se si torna sopra i livelli di 109.20 no guardate avete visto si scende giù io comunque non ho fatto nulla qui si chiude sotto vediamo martedì tiene questo livello con una falsa rottura di questo minimo molto interessante però non faccio nulla mercoledì crea una tailbar short che potrebbe portare giù a questo punto io non ho la possibilità di mettermi corto perché sono only long sul mio piano quindi sto a guardare giovedì si recupera un po' vediamo venerdì venerdì si ritorna su pesantemente quindi questa diventa una falsa rottura questa di questo minimo interessante perché probabilmente la chiusura weekly è bella vedendo il daily eh sì è una super pinbar guardate un po' con falsa rottura quindi qua c'è da comprare facilmente vediamo se ci dà qualche conferma operativa si scende ftv power però io sto only long ovviamente col mio piano qui lunedì martedì indecision inside mercoledì inside giovedì tiene ma non fa nulla sempre inside venerdì venerdì crea una mini tail pinbar e vediamo il weekly il weekly è così inside ancora di questa pin mai convalidata vediamo se ci darà qualche spunto e poi tra un po' chiudiamo allora lunedì viene giù io rimarrei su only long qui eh quindi non faccio nulla questo però può portare giù ancora martedì recupera a me questo piace ragazzi piace rischio sempre poco perché questo recupero in falsa rottura mi piace particolarmente per ritornare magari su questo livello quindi ehm vediamo un po' quanti pips sono se io mi metto lo stop qua sotto 4,40 ehm teniamoci sempre facciamo 15k teniamoci sempre piccolino rischio a livello di euro dico di soldi bam compro metto uno stop di ehm 700 dollari circa eccolo qua lo metto qua sotto e vediamo se spara mercoledì giovedì venerdì rimane lì rimane lì più di tanto non fa io sono messo così ho il mio paracadute qui più o meno è là mi aspetterei un movimento adesso almeno verso i 108 e 18 ehm long short la mia view long short vediamo lunedì ah è mosso tantissimo forte giù quindi adesso io ovviamente devo chiudere perché sarei stato colpito qua boom chiudo e quindi adesso il mercato mi è andato mi è andato conto sono ancora assolutamente approfitto nel mio portafoglio però ho subito questi due stop va bene andiamo avanti tra un po' concludiamo però vediamo un po' come si muove avevo detto long short per la settimana quindi mi è proprio boom venuto giù abbiamo martedì mercoledì continua la fase di bassista pesante giovedì inside tiene i livelli avete visto e poi venerdì fa questa inside fake out che può creare un ritracciamento però adesso è molto short la situazione molto negativa eh volatilità molto forte siamo arrivati su questo livello sotto forse abbiamo qualcosa non lo so sì eh segnerei anche quest'area qua e vediamo un po' dove si arriva ovviamente adesso only short non posso pensare a dei long in questo caso anche se con questa è facile che ci possa essere un recupero vediamo lunedì martedì mercoledì non entro short qui giovedì venerdì intanto sta tenendo uno due tre che sta tenendo ok però è un inside eh di tenuta ma tiene il livello mi tengo long short con inside del genere narrow range dopo l'andevola però un po' più short però long short long short vediamo lunedì martedì stiamo troppo incastrati mercoledì scende giovedì venerdì boom mamma mia addirittura siamo arrivati a 90 qui 90 quindi proprio giù 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 fortissimo e questa grande tail bar che è venerdì quindi il weekly sarà pesantemente short addirittura stiamo sotto i livelli che avevo segnato siamo su livelli veramente pesanti e a questo punto mi segno anche questa zona e questa zona tac per vedere un po' no dove stiamo arrivando only short ovviamente e vediamo lunedì martedì martedì recupera molto forte mercoledì giovedì venerdì ovviamente con una candela del genere io questa qui che è un ftv non la vado neanche a prendere in considerazione perché la volatilità di questa rispetto a questa è assolutamente completamente fuori due inside il venerdì vediamo il weekly che cosa fa fa un po' di recupero qui invece di only short mi tengo long short come piano e vado avanti lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì non ci sono stati veri e propri trigger che mi sono piaciuti questa è una power però il weekly continua le sue inside non c'è nulla che sta dicendo qualcosa mantengo long short ancora la view lunedì martedì mercoledì si scende giovedì però sì è giovedì è venerdì diciamo questa è una dinamica no che crea un po' quel senso di o fa una base per risalire oppure fa un ulteriore movimento ribassista questo è un po' l'idea vedete è una tail sempre inside di tutta questa long short long short nel mio piano lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì no nulla da fare rimaniamo sempre tail tan 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 potrebbe fare la sparata su come potrebbe fare un altro crollo long short vediamo se dà delle conferme operative sul daily questa è una falsa rottura short quindi vediamo se spara su lunedì martedì power non mi va di vendere però sinceramente questo tipo di dinamica avete visto che io cerco sempre di fare qualcosa che abbia a che fare con delle serie false rotture o cose di questo tipo quindi martedì mercoledì giovedì venerdì bassa vola weekly è messo così tutto dentro tutto inside su questi livelli che tra l'altro andrei a segnare anche le chiusure fatte qui rimarrei long short sinceramente perché il livello inizia a essere importante rompe lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì mi sa che adesso si sta ancora only short con una situazione del genere only short perché rompe anche le chiusure precedenti quindi la mia view rimane only short su questo mercato lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì queste mini pin io non le trado quindi non pin bar rialzista il weekly ha fatto questo sinceramente vi dico una cosa resto flat questa settimana non faccio nulla quindi anche in base a tutte quelle che possono essere i trigger non farò nulla vediamo un po' lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì tiene il livello che avevo segnato 87 il weekly arriva così siamo lontani dallo swing il long non si può fare lo short neppure sto flat ancora aspetto lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì nulla da dire ancora flat un'altra settimana e poi al massimo mi riattivo lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì beh questo è già no questo è martedì addirittura allora andiamo avanti mercoledì giovedì venerdì eccolo qua si vede che aveva saltato un giorno qui no se no io ho fatto un conteggio lunedì lunedì martedì mercoledì giovedì ah no non c'era giovedì ecco perché mi è saltato va bene a fine di questa settimana vediamo un po' come si è questo è bello questo è un trigger short assolutamente che può portare nuovamente giù quindi adesso ho una view molto più chiara only short su questo mercato vediamo un po' se dà qualche spunto operativo lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì non dà conferme il weekly è messo così quindi un po' in recupero però rimango only short anche anche questa settimana lunedì martedì mercoledì attenzione che mercoledì ecco rispetto vedete queste cosine qui che per me non hanno nessun valore questo diventa invece valore arrivato sui minimi mi spica questo è importante potrebbe portare su non ho la possibilità di andare long ma aspettiamo la fine di settimana mercoledì giovedì venerdì no non fa al momento nulla il weekly è messo così ma io con un weekly così starei long short sinceramente perché tiene il livello fa spike però qua potrebbe far continuare il movimento quindi long short lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì niente tiene i livelli nulla di che rimango long short lunedì martedì mercoledì mercoledì giovedì venerdì siamo in un range vedete 1 2 3 weekly sparicchia su sparacchia su quindi facile un movimento verso l'alto long short anche qui andiamo a dare le conferme lunedì martedì mercoledì giovedì questo è bello perché è un ftv power che tiene il livello però vediamo come chiude la settimana venerdì molto bene questo è bello potrebbe portare un movimento di rialzo sinceramente vediamo se dà delle buone intenzioni io tengo only long in questo momento per la settimana lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì tiene vediamo se fa ritracciamento qui questo è bello bellino tengo only long su questa zona qua rompe lunedì no rompe tutto possiamo prendere questo probabilmente no questa era la power e questo era l'obiettivo martedì concludiamo la settimana mercoledì giovedì venerdì quindi chiusi settimana che recupera il long bello bello bene 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 direi che siamo quasi a un'ora di video e per oggi secondo me abbiamo fatto un ottimo video tutorial anche con delle dinamiche interessanti che sono venute fuori su le varie posizioni quindi molto molto bello lasciate un commento ovviamente lasciate un mi piace scrivete qualche mercato magari sul quale magari fare questi tutorial che a me fa piacere e magari lo facciamo insieme per i prossimi settimani i prossimi sabato non mi resta che augurarvi un buon weekend appunto iscrivetevi a questo canale se volete approfondire le nostre tematiche trovate tutto sul sito www.ierforex.com hreforex.com dove trovate anche articoli di blog eccetera eccetera i nostri servizi operativi i nostri corsi grazie a tutti vi auguro un buon fine settimana ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao